...e dicono che noi italiani siamo stati emigrati, ma noi italiani quando abbiamo emigrato in America e in Argentina non avevamo i telefonini, abbiamo lavorato! Se non avevi il lavoro ti rimandavano a casa, ci rimandavano in quarantena e se non avevi appoggio al lavoro ti rimandavano a casa! Con una mano davanti e una di dietro, qua ci diamo di tutto!